Noi sappiamo ovviamente che è tecnicamente possibile perché la fiducia è già stata posta dal governo precedente, ovviamente non dal nostro, sulla legge elettorale. In questo momento sinceramente parlare di fiducia mi sembra prematuro perché abbiamo un dibattito in commissione che è iniziato ieri. Si fa come estrema razio quando c'è un provvedimento che per il governo è fondamentale nella propria agenda politica e nell'agenda politica del paese. Sicuramente la legge elettorale lo è, però ripeto è l'estrema razio.